Una buonasera a tutti voi, benvenuti ad Incontri, riprende questa seconda tornata di appuntamenti con le realtà politiche locali. Oggi è con noi Gianluca Bifaroni, responsabile provinciale del Noe Bon Salvini. Giovani. Responsabile giovani, ho detto. Allora Gianluca vogliamo iniziare con te un po' a fare un punto della situazione partendo da una considerazione che ho fatto in questi giorni. Ogni vostro comunicato ci sono tre parole sempre ben chiare. Non compromessi, decisione e fermezza in quanto credete. Sono dei punti fermi questi. Assolutamente, dici bene Gianni. Noi crediamo fortemente che le prossime elezioni siano fondamentali per la cittadinanza ortana. Non perché le altre elezioni non siano mai state, ma perché arriviamo da 11 anni di mala amministrazione, di mala politica che ha portato un degrado sia sociale che economico. Che addirittura ha portato il commissario straordinario a gestire un paese. Quindi noi abbiamo presentato il nostro programma, il programma elettorale che non è un libro di sogni. Sono proposte concrete, proposte fattibili che andranno così, sempre secondo noi, a risollevare il paese. Noi non accetteremo nessun compromesso, nessuno, perché noi vogliamo assolutamente che Orte torni a essere quello di una volta. Noi abbiamo presentato il nostro programma politico, fatto di 5 punti fondamentali e prescindibili per qualsiasi tipo di dialogo, di approccio con le altre forze politiche. Abbiamo avuto già anche diversi tavoli, abbiamo avuto diversi tavoli di confronto con Orte e Città Nuova e con le altre forze politiche, ma ancora oggi non abbiamo trovato nessun tipo di accordo. Noi fino a quando una forza politica approccia i nostri punti, tutti i nostri punti, noi andremo dritti, da soli fino alle elezioni, ci presenteremo con una lista nostra, i nostri uomini e il nostro progetto politico. Quindi non era soltanto uno slogan quello di dire no compromessi? Assolutamente no. Sono una convinzione che solamente porterete avanti, quindi anche disposti ad andare da soli? Assolutamente, noi stiamo lavorando proprio per fare una nostra lista. Voi insistete molto sulla sicurezza dei cittadini, ma l'avete percepito questo bisogno tra i cittadini oppure soltanto un cavallo di battaglia che volete portare avanti? Guardi, a noi ci dicono populisti, no? Essere definiti populisti è il nostro orgoglio, il nostro orgoglio perché se populista significa ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare affinché si risolvano i problemi, a beneficiarne i propri cittadini, allora noi siamo orgogliosi di essere populisti perché la nostra politica è proprio questa, ascoltare i cittadini e risolvere i loro problemi. Se a qualcuno questo non sta bene, noi ce ne facciamo una ragione, non andriamo dritti nella nostra strada. Ecco, è parlato poco fa che avete fatto incontri con le altre forze politiche, quindi vi siete fatti un'idea anche su quello che è la realtà circostante nei vostri confini. Un'opinione, un parere un po' sulla Costituente, su Ortecittà Nuova, sui degli anni, insomma, che avete incontrato, che idea vi siete fatti? Riguardo la Costituente penso che mi viene da sorridere anche se non c'è tanto da sorridere, ma come fa a essere credibile una Costituente che si candia, si presenta ai cittadini con l'idea di risollevare, di far rinascere Orte, quando poi questa Costituente è formata da due petali del quadrifoglio, è formata da un partito che sta rovinando l'Italia e gli italiani, sta mettendo in crisi i sindaci italiani con il patto di stabilità ed è formata da persone che pubblicamente dicono di essere di sinistra, ma stringono accordi con Pindini e Rifundaroli. Come fa a essere credibile? Quindi noi con quella Costituente siamo assolutamente lontani. Con Ortecittà Nuova, come prima ho detto, abbiamo avuto diversi tavoli di confronto, ci siamo trovati d'accordo su diversi punti, ma alcuni punti lontani, quindi come detto prima, affinché tutti i punti... E quali sono questi punti? Sicurezza, poi a maniera... Io li ricordo quasi tutti, però aiutami. Trasparenza amministrativa? Trasparenza amministrativa, lo sviluppo del territorio, quindi il decoro urbano, l'ambiente, la promozione dell'occupazione locale, questi qua sono i nostri punti fondamentali che noi porteremo avanti. Ecco, quindi non andare a cercare tante cose, ma soltanto 5 o 6 obiettivi da raggiungere senza... Anche perché è inutile fare delle promesse che poi non sono fattibili come cose, quindi bene che noi presentiamo dei 5 punti semplici, concreti, da porre essere a fuori dei cittadini ortani. Ecco, poi per finire la domanda di prima, anche con i 5 Stelle avete avuto incontri con le varie associazioni che ci sono? Con i 5 Stelle no, anche perché, quanto abbiamo capito, corrono da soli, quindi chiudono le porte, chiudono qualsiasi tipo di dialogo, quindi loro andranno da soli, ognuno ha una scelta politica legittima. E invece con il mondo associativo che è abbastanza popolato, la morte di queste realtà. Noi abbiamo incontrato anche singole persone, oltre all'associazionismo, noi abbiamo incontrato persone, artigiani, imprenditori, commercianti. Noi ascoltando, perché oggi è già tanto ascoltare, perché non tutte le forze politiche si mettono intorno a un tavolo con i cittadini, con imprenditori, con artigiani, con i commercianti, che stanno subendo la crisi in maniera rilevante. Quindi noi abbiamo incontrato anche i cittadini, abbiamo incontrato le associazioni, sì, questo sì. Però ad oggi noi andiamo dritti, andiamo da soli. Ecco, queste realtà economiche, importanti, hai detto, imprenditori, commercianti, altre attività economiche, come hanno accolto le vostre proposte? Anche a livello nazionale, i commercianti, gli imprenditori, gli artigiani, ormai si appoggiano all'idea salvignana, alla Lega o a noi con Salvini, perché è l'unica forza politica, come vi stavo dicendo, che ascolta le problematiche. Non è che parliamo alla pancia delle persone. Se chi fa questa determinata, per qualcuno è un mestiere, il nostro è solamente una passione. La nostra passione è questa, ascoltare i cittadini e fare delle proposte per soddisfare i propri bisogni. Questo è, noi facciamo questo. Ecco, avete lanciato anche un'idea di fare un albo fornitori nel comune di Orte. Questo riguarda la trasparenza amministrativa. Perché? Noi con l'albo dei fornitori vogliamo che ogni impresa, ogni imprenditore, ogni artigiano si registri in questo albo per far sì che ci sia una regolare, un equo rapporto tra ente pubblico e privato. Quindi senza far sì che vengano categorizzati gli artigiani, gli imprenditori. Quindi perché? Perché è impossibile che vengano categorizzati con imprenditori serie A, serie B, serie C. Invece con questa nostra ricetta noi mettiamo tutti allo stesso paro, tutti hanno quello che gli spetta. Ecco, tornando un po' alla sicurezza che è stato il vostro cavallo di battaglia in molte occasioni. Quindi un'idea su come intervenire in modo primario, parliamo ovviamente a livello locale e ce l'avrete, insomma che cosa vi proponete di fare per la sicurezza del territorio? Come sicurezza noi intendiamo innanzitutto conoscere la popolazione ortana, quindi effettuare un censimento capace di combattere l'immigrazione irregolare, quindi un censimento fatto porta a porta. Quindi bussare la porta, vedere chi ci abita, quello che fa di mestiere, le sue condizioni sanitarie anche, perché troviamo malattie oggi che in Italia erano state dimenticate ormai da diversi secoli. Quindi la nostra sicurezza è anche questa, intervenire sul territorio con la collaborazione delle forze dell'ordine, quindi andare quartiere per quartiere a vedere quali sono le problematiche di sicurezza, perché non è ammissibile che oggi un cittadino debba aver paura di passeggiare nel centro storico oppure nella via principale di Ortescalo, rischiando magari qualcuno dietro l'angolo ti dà una bassa mano della testa. Noi questo qui non lo permetteremo mai, per questo questo qui è un nostro cavallo di battaglia. Ecco, un'ultima domanda, un po' è una curiosità. Poco tempo fa c'era stata una polemica tra te e il parroco di Ortescalo, perché dice Gianluca Biffaroni sta contro il parroco, ma è così? Assolutamente no, anche perché è un amico di tutti. Oltre ad essere un parroco è un amico di tutti. Io mi ricordo quando... No, perché insomma c'era stato un titolo su un giornale che la metteva un po'... I titoli del giornale sono slogan per attirare il lettore. Assolutamente, io ero entrato in merito riguardo quando il parroco dice di voler accogliere degli immigrati. Io chiedevo solamente un chiarimento. Come vengono accolti? Chi è che paga? Da dove provengono questi immigrati? Di che religione sono? Hai chiesto un po' delle informazioni. Un chiarimento, un chiarimento. Un chiarimento. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi perché voglio continuare a parlare sempre ovviamente con noi con Salvini, con un'altra persona del direttivo che si sta qui accomodando, Bruno Desimoni che ha già preso posto qui nella poltrona accanto a me, è stato velocissimo. Con Bruno vorrei analizzare un aspetto che state curando in questi giorni, vale a dire, l'analisi del bilancio comunale, non solo l'ultimo ma anche il precedente. Certamente. Che cosa vi dice questo bilancio comunale secondo voi? Allora, noi abbiamo innanzitutto chiesto al commissario straordinario i bilanci definitivi del 2013, 2014 e 2015 per poter fare un'attenta analisi. Io sono un fisico sperimentale, quindi non è che è il mio mestiere. Però siccome sono un analista dei numeri, abbiamo incominciato anche in collaborazione con un organo che è provinciale, dove ci sono degli analisti economici, legali, eccetera. E ci hanno detto, dice, incominciamo a buttare i numeri dentro un computer. Vediamo quali sono appunto gli elementi fondamentali. Insomma, vi siete rivolti a chi fa di professione questo mestiere. Certo, di professione. Però abbiamo già incominciato per esempio a tirare fuori dei dati fondamentali relativi alle entrate del 2013 e 2014. Abbiamo individuato la bellezza di 64 voci e abbiamo non solo rilevato che ci sono chiaramente delle differenziazioni tra il 2013 e il 2014 che evidenziano un cambiamento di rotta filosofico. Perché poi un bilancio comunale non è altro che la politica che è diventata numeri. Ecco, quali sono le differenze maggiori che emergono? Le differenze maggiori su vari capitoli. Ma poi abbiamo messo in relazione anche… io per esempio facevo nel mio… era un dirigente di ricerca e avevo un gruppo e noi annualmente dovevamo stilare un bilancio con nome e cognome dei dipendenti, la qualifica… insomma, l'esempio è chiaro… Gli stipendi, ETFR eccetera eccetera. Io prendendo in analisi questo bilancio che ci hanno dato non è fatto così. È una cosa estremamente complessa. Per esempio, vedendo… abbiamo capito per esempio quali sono i dati relativi agli stipendi. Però l'abbiamo dovuto trovare in mezzo alle voci del bilancio. È una cosa complicata. Non è chiaro il bilancio come il redatto, secondo voi? Sì, potrebbe secondo me essere molto molto più semplificato. Poi abbiamo tirato fuori le prestazioni di servizio. Le prestazioni di servizio che vi cito i primi cinque elementi più significativi. Per esempio, il più pesante dal punto di vista economico è il servizio di smaltimento dei rifiuti che nel 2013 è stato un milione e sette. Il secondo, abbiamo trovato l'assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona con più di mezzo milione di euro. Ecco, secondo voi queste sono spese che dovrebbero essere… Che cosa intendete fare se andate a Palazzo Nuzzi con questo capitolo di risposta? Allora, quello che si intende fare è, primo, tenendo conto che nell'anno successivo non ci sarà più l'Imu, la tasse, la cosa fondamentale è che noi vogliamo ridurre drasticamente le tasse comunali. Quindi andiamo a rivedere… Le tasse comunali si riducono poi alla raccolta di rifiuti, all'acqua, insomma, parliamo in termini semplici per i nostri ascoltatori. Sì, 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 ma diventa pesante però con me. Certo. Poi non solo, per esempio, faccio un esempio. Noi paghiamo la Tari, l'abbiamo pagata recentemente, e abbiamo speso il 5% in più, alla fine, per la provincia. Ora io non capisco come… le province sono state abolite, però il 5% ancora esce. Credo che sia una legge nazionale però, non credo che sia una… Sì, ma noi vogliamo andare punto per punto in maniera molto dura a vedere punto per punto… Ecco, quindi praticamente proponete di risparmiare, di fare ritagli su delle spese che ritenete inutili, oppure che hanno dei capitoli troppo esposti e potrebbero essere ridotti. Questo è un po' quello che sta avvenendo fuori dalla vostra analisi. Ma tutti e tre bilanci hanno questo trend, voglio dire, oppure… No, nel 2014 è un po' meglio, però non abbiamo ancora definitivamente caricato i dati. Ecco, in una comparazione con i bilanci 2013 e 2014 presentano delle anomalie che dovremmo andare a chiedere… Spiegazioni insomma. Spiegazioni perché non lo possiamo capire. Comunque tutto questo lavoro che stiamo facendo come acquisizione dei dati sarà avvaliato nella prima settimana di febbraio da un gruppo appunto di noi con Salvini, provinciale, perché ci sono 7-8 potenziali sindaci nella Tuscia dove faranno organizzati dei corsi proprio ad hoc su questo tipo di tematiche. Ecco, quindi dare indicazioni al futuro sindaco su come deve intervenire e come operare sul bilancio. Esattamente. Perché non è una cosa semplice. Assolutamente. Non è una cosa semplice. E come ripeto, il bilancio è la politica applicata. Quindi deve essere una cosa estremamente chiara e trasparente che tra l'altro verrà messa proprio nella seconda, come diceva Gianluca, nel secondo punto la trasparenza amministrativa noi sul programma appunto che vi rappresentiamo sarà un punto fondamentale per cui l'Ortano saprà come andrà il bilancio. Esattamente. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi, come ringrazio anche Gianluca Biffarone che ti ha preceduto. incontri, questa prima puntata di incontri che riapre un po' il ciclo delle nostre chiacchierate del sabato sera, termina qui e l'appuntamento come sempre è per sabato prossimo. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.